come mai siamo arrivati qua siamo arrivati per un motivo tecnico perché la moschea non ci basta di solito noi tutti le feste prendiamo un cappanone una sala grande in cui si riuniscono centinaia di persone la parrocchia un centro parrocchiale che si chiama centro di presenza cristiana in questo centro abbiamo delle sale che vengono affittate sicuramente in questo ambito accogliamo questa comunità in alcuni momenti dell'anno dove fanno feste preghiere eventualmente tutto secondo me questo è un messaggio importante a quelle che non credono la convivenza questo messaggio è importante a quelle che hanno delle visioni chiusi nell'ambito giustamente di l'accoglienza e del dialogo inter religioso che è un aspetto molto importante fondamentale soprattutto in questa epoca la chiesa in cui vede i musulmani che pregano i musulmani che arrivano in luogo girare gestito di una chiesa che non hanno problemi di pregare e vivere anche loro rite dentro quindi secondo me questo un bellissimo esempio e modello da dare a quelle che non credono alla convivenza noi accogliendo speriamo giustamente che il valore dell'accoglienza possa essere capito dall'altra parte e che dall'altra parte ecco se la possa prendere per poter renderla anche effettivo nella vita quotidiana penso che il nostro mondo oggi ha bisogno veramente della cultura del rispetto il rispetto anche della diversità la diversità non è mai una problematica anzi la diversità come vista di le grandi religioni delle grandi famiglie religiose e una ricchezza questo deve avvenire attraverso direi il mistero del dialogo perché quando si incontra l'altro è sempre un mistero ma con le porte chiuse non si può entrare nel cuore